Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok, allora Bisogna vedere Comandi, Gretel attività, sì Poi Oscillazione sì Accelerazione appuntamento no Accelerazione visuale no Riccita a visore 6, puntamento 3 Lo troverai arrodato nella demo Gioco interfaccia, mi la assista, sì, sì Con l'articolo bianco, come la sborda Ok, perfetto, ray tracing no Io lo voglio a 60 fps, non a 50 Austronzi, bassi, staudi Che schifo a ray tracing su stasera Tervallo dinamico lo vogliamo ampio Sarà un virtuale? No, perché tanzo è un 3D automaticamente Scarica la fica No Perfetto Vai Normale Praticamente i venti non esistono No Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father Who was hard at work But the forest greeted them with a dark, cold silence The bushes empty Yet determined to find the berries The rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees Mother's worried cries faded fast as the girl ran on Over vine and under branch And into the forest deep Feeling strange eyes upon her Questa è la lore del villaggio. And with a clip of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come child, warm yourself. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the fish king appeared and offered one of his many fins come child eat your fill so the girl ate and smiled with joy once more Ti mostro siulti satteta match ambro She soon and took the forest dark heart then an iron steed appeared bearing a beautiful golden gear The creature said nothing as girl approached and snatched what she thought Era un altro dono. L'acqua si è diventata assicura e ha incontrato gli altri monstri. Il terroirò il cuore della ragazza, come una rosa rosa sulle bieze. Soprattutto, un uomo si è avviato... scusato, ma regalo. Inizio molto diverso dal set, parecchio, parecchio diverso. Ah bella, porca madonna. Stava masturbata. Prendi la tua figlia a dormire. Ho finito la mattina. Ho questo. Vecchi di merda. Si vedeva un cazzo. La tua madre non vuole ricordarlo. Non lo so. Io invece la mia cinque aranze residenti di WhatsApp me la ricordo tutta la memoria. Mettete il 22 lì. La sensibilità forse è un pochino troppo. In realtà scatta un pochino, però a noi mi piace tryhardare sempre. Ma regolo il microfono, se no è veramente bestemmia. Ehm... Come pezzi si fa regolare? Allora... Non si può regolare, perfetto. Spettacolare. Oh, Mia. Che miracolo. Oh, il protagonista in faccia non lo fanno vedere mai, eh. Stronzi. Ah, non vediamo da... eh eh eh. Americani che cazzo. La grafica però, ragazzi, è spettacolare. Te lo metto nel culo, tanto. Siamo... Oh, madonna. Aspetta. Mi ha fatto tutto con la mano, quindi questa cosa continua a piegare. Enrico Mentana. Enrico Mentana. Ci te ne fate parecchio bene. Allora, come l'anno, guarda qui. Ma, guarda qui. Lo vorrei di banane. Monche! Vido una volta un po'. Qui. Che posto è questa? Ah, aspetta. Vole poter passare da qui. Cazzo, ma è resbica. Per davvero. Sembra barri a sentire residenti whatsapp. Non c'è nessuno specchio, vero? Madonna, comunque il nero, tra l'acqua, io non ci sembri nulla. Mamma mia, che mi piace questa canzone tanto. Potremmo R2 magari lanciare il bambino, non so. Perfetto. Dalvei, Luciana. Fuga di gas tossica. Veramente se la sono cavata con sta stronzata. In realtà c'era un mostro gigante che ha ammazzato tutti, però vabbè. Ci può stare. È la velocità massima questa. Si vede un'altra parte che sta per la sua lana. RETE! Vestiti di rosso per domani. Perché non l'avete chiamata Giulia? Via mia, abbiamo dedicato di nuovo. Europa. C'è sta. 62,3 centimetri. 6 kg. Sì, al cavolo. Adatto a me a te lo fai, va dai. Non so. Armarsi per la straviglia. Sì, è vero che ho bisogno di rinforzare. Si ha levato con le armi, insomma. Parca madonna. Da taglia una mano Guarda quant'è veloce, io non sto correndo Cioè va 4 volte più veloce del set Ha fatto valestra, ha fatto allenamento cardio Chorba de legume Chorba de legume E' solo, trovare a te in Louisiana Pregnancy, Chris moving us qui Militario, tutto è così veloce, sai? No, almeno siamo tutti insieme Tu, io, Rose Ora, tutto va a essere... E' vero? Penso che possiamo non perdere cosa è successo in Louisiana? È successo fa tanto tempo Non capisco perché sei così... No, Oscario Mia! Get down! Mia! Mia! Oh, Dio E' lui Chris? What the hell? Sorry, Ethan No! What? Why? Ok, questo lo sapevo questa roba è successa A vero, il fatto non entra anche c'era Oh, move! All clear Rose? What the hell are you doing with my daughter? The pack of secure, sir Take him away I said get your hands off her! Ethan, no Rose ahhh 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 mi hanno distrutto casa la moglie non ha fatto un fuoco fantastico con 4 torres dei cargatori ahhh ahhh hey doc hello mr winters i got your daughter's results back and i'd like you to come in to talk about that no problem we'll be there that was the doc she'll see us next week hey now think positively alright we talked about this i know we hardly talk about anything else i keep telling you it's not rose that i'm worried about well then what are you worried about look she's gonna be fine i just know it what else matters we matter you matter you matter you just meia what are you talking about is there something you're not telling me come on talk to me damn i have to take this for naboro jesus No, no, no. Il momento è così? Qual è la tua stagione? Cosa ti parlando? Chi è Chris Redfield? Chi è? Questo è un canale segnale. Cosa? La torcia sotto le palle Eliminare il bersaglio Recuperare il corpo Perché recuperare il corpo? La microfilia 200 di scorta Che sono belli che morti